Salve a tutti, questo è un brevissimo video tutorial su come simulare delle sospensioni in LittleBigPlanet. Innanzitutto bisogna cominciare avendole la sagoma dell'auto moltiplicata per tre volte in tre piani differenti. Il piano centrale avrà spessore completo, mentre gli altri due, frontale e quello posteriore, avranno spessore minimo. Dobbiamo prendere in considerazione solamente il piano posteriore di spessore minimo, al quale dovremo creare un quadrato di metallo. Dopodiché dovremo prendere le molle, che saranno le nostre sospensioni, e attaccarle alla parte superiore del quadrato e alla parte inferiore del passaruota dell'auto. Poi dovremo chiaramente creare le nostre ruote e attaccarle mediante bullone motore. In questo modo avremo, partendo dalla profondità maggiore, la sagoma dell'auto attaccata al quadrato di metallo attraverso le molle e le ruote attaccate al quadrato attraverso bullone motore. La cosa più importante per far sì che questo funzioni è che la molla sia rigida e con forza 100, ma soprattutto che il quadrato sia di metallo, comunque un materiale pesante, perché con il cartone non funziona. Spero di essere stato chiaro, ma soprattutto utile. Grazie.